Ciao amici bagli investor, vi ho già portato 2-3 video su Cakebox, una catena inglese di negozi di torte e sì, il business è noioso se comparato all'intelligenza artificiale e le auto elettriche ma come potete vedere da inizio anno il titolo non sta andando male e nell'ultimo mese ha avuto una bella crescita del 20% e questo per due ragioni, la pubblicazione della semestrale ed una notizia uscita proprio ieri e iniziamo con quest'ultimo motivo se vi ricordate mesi fa avevo fatto un video su Cakebox in cui vi dicevo che un fondo di private equity australiano River Capital aveva fatto a luglio un'offerta di acquisto dell'intera azienda con un'offerta di 1,60 pound ad azione quando Cakebox scambiava circa 1,30 pound Cakebox ha rifiutato però la proposta ritenendola troppo bassa e allora, avendo capito che non c'è trippa per gatti ieri River Capital ha preferito almeno incrementare la sua posizione in Cakebox dal meno del 3% al 4,56% perché questa notizia è importante? perché il fatto che una micro cap come Cakebox con appena 65 milioni di sterline di capitalizzazione si stia guadagnando l'interesse e la fiducia dei fondi è sicuramente un segnale bullish infatti nella giornata di ieri dopo la notizia il titolo era salito quasi del 7,5% ma la notizia più importante è la semestrale perché riguarda i fondamentali dell'azienda ed è stata a mio parere e anche a parere del mercato una bella semestrale soprattutto se riferita al contesto macroeconomico perché come sapete il Regno Unito sta passando un brutto periodo il PIL è previsto in crescita per il 2023 solo dello 0,5% l'inflazione è stata ben più alta rispetto alla media europea ma soprattutto l'inflazione dei beni alimentari è stata molto più alta della media europea cioè il settore dove opera Cakebox e lo stesso discorso per i tassi di interesse quindi non di certo un ambiente favorevole per un'azienda eppure l'azienda è andata relativamente bene perché le vendite sono cresciute nonostante tutto di quasi il 7% le vendite a parità di numero di negozi del 6,2% hanno aperto 9 negozi in più in questi 6 mesi ma il dato davvero interessante è che nonostante un'inflazione sanguinosa Cakebox sia riuscita a portare il gross margin a un dato strabiliante di quasi il 50% e come potete vedere è un dato che sta seguendo un importante trend di crescita magari continuerà a crescere ancora, non è da escludere ma già adesso parliamo di un numero molto importante se paragonato al settore ma anche gli altri dati di profittabilità sono molto buoni margine operativo, margine netto, free cash flow margin e il ritorno sul capitale investito è stato del 30%, mica male l'utile per azione è cresciuto di quasi il 20% il free cash flow conversion ha raggiunto addirittura il 90% e anche il dividendo è stato aumentato del 10% ma quello che è stato davvero interessante secondo me è vedere gli investimenti fatti e che faranno per la crescita futura perché Cakebox sta investendo molto nel canale online già da un paio d'anni e le cose stanno andando sempre meglio nell'ultimo trimestre le vendite online sono aumentate del 18% rispetto a un anno fa e stanno continuando ad investire con campagne di marketing online per incrementare sempre di più le vendite di questo canale che potrebbe essere un buon trascinatore della crescita per il futuro altra cosa interessante è stato il rebranding nuova brand identity con nuovo logo, nuovi font, nuovi colori e soprattutto nuovi punti vendita che ora hanno un aspetto decisamente più da pasticceria europea che da negozio di sim telefoniche strilanchese e hanno investito anche nel lancio di tante nuove torte tanti nuovi prodotti che hanno un aspetto molto più da alta pasticceria ma sempre a prezzi molto accessibili infatti è questa alla fine la proposta di valore di Cakebox fa torte che sembrano uscite da una pasticceria ma da un prezzo di supermercato e ora l'obiettivo è quello di aumentare la brand awareness la notorietà del brand perché su scala nazionale è ancora al 40% quindi c'è tanto margine ancora per crescere e pertanto stanno iniziando a fare campagne pubblicitarie a livello nazionale su radio e outdoor cioè io vedo un'azienda gestita dal fondatore che è il 25% della società con la volontà di voler investire e innovare la volontà di voler crescere ma mai a danno della profittabilità cioè loro preferiscono crescere non a ritmi forse innati ma in modo profittevole cercando di espandere i margini il più possibile cercando di migliorare il più possibile il free cash flow conversion cercando di crescere nel modo più efficiente possibile e quindi focalizzandosi sul ROIC e comunque stanno già dando un buon dividendo siamo al 5% dei dividend yield ed è un dividendo in costante crescita ovvio che se riuscissero a reinvestire anche questi soldi ad alti tassi di rendimento sarebbe meglio e siccome non c'è doppia tassazione sui dividendi inglesi diciamo che me la faccio andare bene questa cosa vediamo se con il miglioramento della situazione macroeconomica nel Regno Unito riusciranno a tornare a crescere a doppia cifra anche se in ogni caso nel prezzo attuale non è scontata una crescita a doppia cifra perché parliamo di un PE nemmeno di 15 poi ci sono i rischi come sempre di investire in una micro cap come l'affidabilità dei bilanci un paio d'anni fa ci sono stati infatti degli errori contabili con questa azienda ma ora hanno un nuovo CFO che è colui che ha seguito l'espansione in UK di Domino Spizza quindi dovrebbe essere competente questo e infatti non ci sono stati problemi da quando c'è lui e poi il fatto che possono permettersi di dare quasi tutto il free cash flow in dividendi mi fa pensare che i soldi ci siano cioè quello che c'è scritto che guadagnano nel bilancio sia vero anche perché quando sono arrivati i dividendi io li ho controllati non erano banconote del Monopoli erano soldi veri comunque se vi interessa approfondire questa azienda e volete restare aggiornati sulla sua evoluzione le abbiamo dedicato un canale nel nostro gruppo Discord per entrare nel gruppo vi basterà sostenermi con una piccola donazione su Patreon link in descrizione fatemi sapere cosa ne pensate di questa azienda un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide